va ora in onda radio speranza notizie a cura della redazione giornalistica un cordiale saluto a tutti da massimiliano spiriticchio alla microfono e da tutti noi di radio speranza in blu la radio della chiesa metropolitana di pescara penne la giunta regionale riunita ieri pomeriggio ha approvato lo schema di accordo di programma con il ministero della salute per gli investimenti in edilizia sanitaria l'investimento complessivo monta 284 milioni di euro di cui circa 102 a carico dello stato 5 milioni 400 mila euro finanziati dalla regione e 174 milioni dai partner privati che saranno coinvolti nei progetti di finanza gli interventi inseriti nell'accordo riguardano la costruzione dei nuovi ospedali di Avezzano per 84 milioni di euro sul Mona 17 milioni e mezzo di euro Lanciano 80 milioni vasto 84 milioni è prevista anche la ristrutturazione del presidio ospedaliero di penne per il quale sono stati stanziati 12 milioni e mezzo di euro ed è prevista anche la realizzazione della nuova centrale operativa del 118 per 6 milioni 300 mila euro e sempre ieri pomeriggio è stato approvato in consiglio regionale il nuovo piano regolatore portuale di Pescara è un provvedimento da almeno 200 milioni di euro atteso da qualche decennio che punta a porre rimedio ai cronici problemi del porto pescarese che tra i fallimenti generati dalla diga foranea e dal nuovo molo è entrato in una fase di crisi profonda legata in larga parte all'insabbiamento dei fondali l'intervento più importante in tal senso sarà lo sfondamento della diga foranea unanimemente riconosciuta come la madre di tutti i problemi del porto il testo è stato approvato a maggioranza con il voto favorevole del centro-sinistra e dell'opposizione di centro-destra hanno votato contro il Movimento 5 Stelle e il consigliere Leandro Bracco di Sinistra Italiana L'acqua del fiume Pescara arriverà sulle tavole dei pescaresi e dei chietini? Cosa si cela dietro ai movimenti attorno al potabilizzatore di chietiscalo? A volte ci chiediamo se l'arsenico e il mercurio presenti nel fiume Pescara possano essere anche la causa di quello che appare essere un comportamento totalmente schizofrenico degli enti pubblici e quanto afferma il forum abruzzese dei movimenti per l'acqua sottolineando che dopo la riunione per la potabilizzazione del fiume Pescara la confusione regna sovrana e forse, dice il forum, volutamente Il sindaco di Città Sant'Angelo, Gabriele Florindi, rende noto che a seguito di ulteriori accertamenti accertamenti eseguiti dai tecnici del nucleo intervento speciale dei Vigili del Fuoco di Rieti insieme a quelli della CND SRL si è reso necessario, per motivi cautelativi e per salvaguardare la pubblica incolumità di interdire l'accesso all'argo Cavour e alla collegiata di San Michele Arcangelo appunto a Città Sant'Angelo divieto di accesso anche alle attività commerciali, professionali e alle abitazioni prospicenti largo Cavour il sindaco avverte che saranno emanate per queste situazioni successive ordinanze comunali oggi a Città Sant'Angelo, alle 21, assemblea pubblica al teatro comunale almeno 490.000 euro all'anno per gestire il depuratore di Pescara l'ACA cerca un altro interlocutore dopo il trentennio di gestione continuata ed incontrastata del gruppo Biofert di Vincenzo fin dalla sua costruzione affidata alla ditta di Vincenzo soluzione obbligata detto solo di recente l'ex amministratore delegato dell'ACA Vincenzo di Balnassarre intervistato dal quotidiano online primadanoi.it è incalzato sulla regolarità dello scarico della fogna dettaglio scoperto solo di recente appunto dopo tanto tempo hanno preso parte in tanti al forum cittadino sul nuovo piano sociale che si è svolto ieri in sala consigliare a Pescara e che ha chiamato a raccolta preziosi interlocutori dai rappresentanti delle associazioni di volontariato e del terzo settore ai responsabili della ASL e del mondo della scuola ai quali sono state illustrate le fasi che porteranno alla redazione entro due mesi del nuovo documento in cui saranno definiti gli interventi e servizi in campo sociale e socio-sanitario per i prossimi tre anni. Il tema del forum è stato sintetizzato nello slogan Pescara sociale include e cresce. Ha illustrato l'assessore al weltero per Antonella. È una visione integrata che dobbiamo stimolare con una nuova governance cioè una nuova capacità amministrativa pubblica che sarà sempre di più una cabina di regia in grado di coordinare le varie attività e gli operatori che sono a contatto con gli utenti. Ma andremo a misurarci ha detto ancora l'allegrino anche con il terzo settore e le professioni sociali. Si terrà sabato un incontro con il costituzionalista Umberto Ronga che presso l'auditorium Giovanni Paolo II alle ore 18.45 in un incontro organizzato dall'Arcidiocesi di Pescara Penne illustrerà i contenuti della riforma della Costituzione italiana che sarà al centro del referendum domenica 4 dicembre. è una occasione per conoscere e farsi un'idea quella organizzata dall'Arcidiocesi di Pescara Penne come ha spiegato lo stesso Arcivescovo S. Eccellenza Monsignor Tommaso Valentinetti. Dunque ripetiamo l'appuntamento sabato alle ore 18.45 presso l'auditorium Giovanni Paolo II con il costituzionalista Ronga. E' sempre sabato ma alle 8.30 presso la sala convegni dell'Aurum ci sarà il seminario per i volontari di protezione civile su come gestire la disabilità in situazioni di emergenza. L'iniziativa dal titolo formabili vedrà la presenza di Mario Mazzocca sottosegretario regionale con delega alla protezione civile che relazionerà sulle linee guida per la pianificazione comunale di emergenza particolari misure di salvaguardia per le persone con ridotta autonomia. Siamo alle previsioni del tempo. Oggi su Pescara e provincia si prevedono sulla costa cielo poco nuvoloso al mattino, sereno nelle ore centrali e nel pomeriggio, molto nuvoloso nel tardo pomeriggio, cielo nuvoloso con foschia nelle prime ore della sera e coperto con foschia in tarda serata con temperature da 8 a 12 gradi e 20 deboli. Nelle zone interne cielo nuvoloso fino a metà pomeriggio, poco nuvoloso nel tardo pomeriggio, molto nuvoloso nelle prime ore della sera e coperto in tarda serata con temperature da 8 a 11 gradi e 20 deboli. Il mare è previsto quasi calmo. Ed era l'ultima notizia per questa edizione del nostro notiziario. Da Massimiliano Spiriticchio al microfono e da tutti noi di Radio Speranza in Blu, la radio della Chiesa Metropolitana di Pescara Penne, grazie per essere stati con noi. A risentirci. A risentirci.